ciao che cosa vediamo oggi una vaschetta al terzo loculo con delle rose cerate e della brassica che è il cavolo ornamentale vi ricordo che il terzo loculo non avrà questa visuale ma dovrebbe essere alzato perché verrà visto un pochino da sotto poi vediamo l'effetto finale e per quanto riguarda la rosa cerata sapete che la testa ha un peso essendo stata cerata per cui potrebbe con l'umidità o che marcire essere troppo pesante spezzarsi oppure logicamente cadere va inferrettata tantissime me la inferrettano dalla parte dal basso come le rose normali il problema qual è essendo la testa pesante anche se io la inferretto dal basso e questa cede tende comunque a spezzarsi allora quello che consiglio è forare sopra diciamo la il collo della della rosa fare in modo che il filo di ferro mi passi e a questo punto creare un rinforzo ok sotto al gambo della rosa che se questo un po marcisce comunque il gocciolo me lo sostiene in più se facciamo l'incrocio diciamo parte a parte forse ecco è un po più resistente io lo faccio una volta sola e comunque vedo che non ci sono problemi e la rosa cerata colorata scura non farà mai non mostrerà mai quando la vera rosa si sta marcendo invece la bianca tende a scurirsi perché logicamente quella all'interno la rosa all'interno marcisce perché diventa scura ma se la lasciate lì col tempo schiarisce perché si secca e per ritorna a rinvolucro chiaro ora e lo farei davanti a voi se uso una base di pino sempre e però vado prima ad impostarmi l'altezza delle rose insieme alla brassica che sarà la prima che andrò a piantare perché il manico è talmente grosso che mi può rompere la spugna per cui prima delle rose vado a piantare la brassica per aprirla basta solo girare quelle che sono le foglie della brassica in giù e fare in modo che esteticamente sembra quasi una rosellina eccola qua qui la vedete chiusa e qui la vedete aperta le apriamo tutte e due ecco qua guardate bellissime ora essendo il caldo al terzo e io lo vado a vedere da sotto sicuramente la brassica non si vedrà la dovrò mettere una sicuramente più bassa e l'altra logicamente in scala ma valuterò tra le due quella che secondo me da sotto si nota di più e tra le due se notate forse è questa aprendola in aperta è quella che mi crea un po più eccola qua la visuale anche vista dal basso ok mi giro la vaschetta che la pianto davanti dell'altezza e vado pianto anche l'altra nel piantare l'ultima mi alzo la vaschetta perché faccio il gambettino abbastanza corto perché la vado ad incastrare di lato anzi forse andrà anche più alto qualche foglio in più che tanto non serve benissimo alzo la vaschetta e me la vado a piantare più in basso il loculo in questione ha la foto sulla destra allora se io la voglio girare leggermente a destra faccio in modo che la mia brassica guardi dall'altra parte ok mettiamo ora le rose guardo quelle più piccoline che metto in alto e le altre logicamente vanno scalare non voglio fare una punta cercherò di creare una rotondità alzo sempre la mia vaschetta valuto dove andare a piantare le rose che mi creino la scala desiderata uno la metterà qua e uno la metterà qua che sarà verso la foto mentre tengo la vaschetta in mano preso la misura della della rosa eccola qua non la la posizione di qua ok rotondeggiate comunque carina e ci siamo una volta inseriti i fiori adesso vado a riempire con il pino ok ok Sì, sì, sì. Scaldi Diciamo E un po' di bianca La città Diciamo Noi C'è un po' di bianca La città C'è un po' di bianca Diciamo La città La città Siccome ho una rama di puritopo innevato vado ad inserire anche questa. Per dare un tocco in più una ravita di dorato. Eccola qui la nostra composizione natalizia del lavoro. Grazie. Grazie.